Antonio Memeo, attore e regista andriese, torna sul palco con due proposte che nel recente passato hanno già ottenuto diversi consensi. Il 17 febbraio a Trani, a Palazzo delle Arti Beltrani, andrà in scena Bastianazzo, mentre l'8 marzo, ad Andria, nell'auditorio Monsignor di Donna, ci sarà lo spettacolo Il Palazzo d'Occidente, le sorelle Porro, raccontate da loro stesse. Bastianazzo, testo di Michele Santeramo, già portato in scena al Festival Internazionale Castel dei Mondi, è ispirato al personaggio dei Malavoglia, di Giovanni Verga, e porta con sé un messaggio di pace. È un testo che fa parte di una trilogia intitolata Fantasmi, che rievoca alcuni personaggi facenti parte del mondo della letteratura e del teatro, che a un certo punto nell'opera, personaggi che nell'opera poi a un certo punto muoiono. Bastianazzo è il figlio di Padrontoni dai Malavoglia di Verga, ed è un testo molto bello, poetico, leggero, e che ha in sé un tema molto delicato che ha a che fare con la pace, con la pace interiore, con la ricerca della pace, e il suo incipit è la pace e a perdere. Solo chi ammette di aver perduto può stare in pace. Seconda tappa ad Andria, l'8 marzo con Palazzo d'Occidente, nei giorni in cui ricorre una delle pagine più nere della storia federiciana, era il 7 marzo del 1946, quando le due sorelle Porro, Carolina e Luisa, vennero uccise barbaramente. Da una folla di braccianti in protesta, i corpi lasciati esanimi e straziati per strada davanti al loro Palazzo Liberty, in piazza Umberto I, lo spettacolo con Antonio Memeo propone una lettura da diversi punti di vista di quegli attimi consegnati tragicamente alla storia. È un testo potentissimo che invito tutti, chiaramente come Basti Nazzo, a venire a vedere perché è trattato attraverso diversi punti di vista, attraverso il punto di vista di due attrici che sono sorelle, sono mamme, sono donne, attraverso il punto di vista delle due sorelle uccise, attraverso il punto di vista delle due sorelle che invece si sono salvate, attraverso il punto di vista della piazza dei rivoltosi e da un punto di vista anche religioso. Il tutto è confezionato in maniera perfetta e precisa da due attrici molto bravi che sono Maria Elena Germinario e Patrizia Labianca. È uno spettacolo che va visto perché induce a delle profonde riflessioni e una delle tante è cosa è cambiato dal 1946 ad oggi. E questa è la domanda che alla fine lo spettatore si deve portare dentro di sé, soprattutto.